La memoria è importante, la sai quella di quello che dice mia moglie adesso ci prepara il caffè, amore ci fai il caffè? Sì amore, adesso ci prepara, amore ci fai pure il dolcetto? Sì amore ti fai il dolcetto? Adesso mia moglie ci fa pure il dolcetto, amore ci porti pure il nocello, quello dopo che sì, amore, grazie amore, e mia moglie adesso ci faccia i picchiati, ma quanti anni sono che sei sposato? 40 anni, e ancora la chiami amore, è che mi sono scordato come cazzo si chiama, la memoria...